Vittorioso il terzo die, facesti sul recimento, per unger le tre marie, lo tuo corpo al monumento, andar con prezioso un quento, l'angel disse non è qui, in Galilea che surrexio, voi precederà grazioso. Iesu Cristo glorioso, a te sia laudetze recimento, che per noi surreximento, a cesti vittorioso. Grazioso essendo in via, apparve alla Maddalena, Nell'Arto disse Maria, poi rabbarve in altra mena, a tutti schiarò la serena, che i pei non se lasso toccare, Gitali apostoli contare, dando all'orso desigoso.